Prosegue tra regioni e sindacati il confronto sulla situazione dei lavoratori ex-ESAF, lente e sardo a quei doti a fognature che hanno chiesto di essere inseriti negli organici regionali. L'assessore del personale Filippo Spano nel corso dell'ultima riunione con i rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali ha sottolineato che il passaggio dei lavoratori ex-ESAF ora inquadrati nell'ambito di Abanoa all'interno del sistema regione in linea con quanto stabilito le norme è una priorità ma che occorre definire attraverso una ricognizione interna gli spazi esistenti. Con questi numeri, ha spiegato l'esponente dell'Aggiunta Pigliaru, possiamo pensare a un programma triennale di assunzione a scorrimento secondo le indicazioni della legge Madia. I lavoratori ex-ESAF prevedo a continuato Spano un bando aperto che rispetti il fabbisogno dell'amministrazione e degli enti. Tutto il percorso si svilupperà in un tavolo promosso dall'Aggiunta regionale per esaminare le caratteristiche del bando e tutti i passaggi necessari per raggiungere il risultato del piano inserimento di tutto il personale. Una prima indicazione potrà scaturire dal piano del reclutamento dell'amministrazione che ormai è definito con uno spazio che potrà arrivare fino a 40-50 mobilità. L'assessore del personale ha poi ricordato che le procedure attualmente in fase di avanzamento, in particolare le selezioni concorsuali per le categorie protette, il corso concorso per i dirigenti e le stabilizzazioni che hanno parlato all'inserimento nell'amministrazione di un centinaio di persone.